Fala galera! 22 anni, 13 gol, 9 assist in 73 presenze con la maglia del Milan. Di chi sto parlando signori? Di Rafaelao. Prima di partire con il video ragazzi, solite raccomandazioni, schiaffate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, se volete rimanere aggiornati attivate la campanellina e come sempre fatemi sapere la vostra nei commenti. Tanti alti e bassi del portoghese che quando imbroccava due o tre partite positive consecutive ti faceva pensare, oh finalmente sei svegliato, per poi puntualmente imbroccartene altre 3-4 che ti facevano veramente girare le balle, ti chiedevi se era sceso in campo il suo fratello, suo cugino, suo nonno e ti veniva voglia di scendere e prenderlo a calci nel culo. Il Wolverhampton sembra essersi mosso per acquistarlo, 25 milioni più 3 di bonus che ad oggi porterebbero 10 milioni di plus valenza nelle casse rossonere. La domanda dunque che vi pongo è, Leao vale 28 milioni? Lo cedereste a questa cifra? Come ho detto prima Leao ha 22 anni e dunque ha ampi margini di miglioramento che deve applicare nell'attitudine alla partita piuttosto che sul piano tecnico. Io sono ancora convinto che Leao possa diventare forte, ma sulla sua crescita dovrebbe anche intervenire meglio il Milan, evitando di cambiargli costantemente ruolo ed impiegandolo con costanza in una posizione fissa. Leao ha bisogno di essere stimolato e coinvolto nella manovra del Milan, Ibra l'ha sempre fatto e lo stesso svedese l'ha sempre preferito al suo fianco rispetto ad altri, specialmente ad inizio stagione. Poi con gli infortuni di Ibra Leao ha dovuto prendere in mano l'attacco rossonero e si è dimostrato impreparato e spaisato in quella posizione che non gli appartiene, isolandosi ed estraneandosi dal gioco di squadra. La nota che ha dato più fastidio a noi tifosi è stata sicuramente la mancanza di impegno che ha dimostrato nel coprire quel ruolo in un momento di estrema difficoltà. Ma se dovessimo vendere Leao poi chi andremmo a prendere? Questa è un'altra domanda a cui dovremmo trovare risposta, perché ad oggi per 28 milioni esterni con le sue caratteristiche sono difficili da trovare, specialmente se vogliamo prendere gente pronta ed affidabile per la Serie A e Champions League. Certo, se ci fossimo mossi prima potevamo sicuramente fare qualcosina di più sul fronte de Paul, ma siamo sicuri che l'argentino avrebbe preferito il Milan all'atletico madre di Simeone? Ragazzi, secondo me personalmente Leao è da tenere. La prossima sarà la sua stagione cruciale, dove si capirà se è un flop o se è un crack. Il Milan ovviamente si prenderà i suoi rischi non cedendolo per 28 milioni, ma potrebbe essere anche un rischio cederlo prematuramente, perché certi fiori impiegano hanno più tempo per sbocciare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!